Verranno ancora depotenziati i piccoli ospedali. La denuncia è del Movimento Avanti Tutta per la salvaguardia dell'ospedale di Popoli. Il movimento è rimasto molto deluso, ha fatto sapere tramite un comunicato stampa, dall'esposizione del piano sanitario fatto dall'assessore regionale Nicoletta Verì. Mentre si organizzano i super ospedali dei capoluoghi di provincia, vi è il maldestro tentativo di indorare la pillola a Popoli con la riabilitazione, certamente gradita alla cittadina in provincia di Pescara, ma che era già stata promessa da tutti gli assessori alla sanità che si sono susseguiti negli anni. Considerato che l'alta specializzazione in riabilitazione è prevista e mai realizzata da sempre, denuncia il Movimento, per Popoli la Verì non aggiunge nulla. Hanno presentato lo stesso piano della giunta precedente. In questo caso l'assessore Verì, con un lavoro di onestà intellettuale che le va riconosciuto, ha semplicemente preso atto degli indicatori della norma nazionale, ha applicato la norma nazionale alla nostra regione, ha allargato le maglie per quanto possibile e ha scoperto che l'assessore Paolucci aveva già allargato al massimo le maglie. Il problema invece non è tanto in questo caso dell'assessore Verì, ma delle balle elettorali di Salvini, Di Maio e 5 Stelle. Dal piano sanitario inoltre emerge che si proroga il punto nascita sul Mona, che probabilmente non potrà essere supportato in futuro, in quanto si declassa poi tutto l'ospedale. Mentre l'ospedale di Popoli continua a fornire assistenza alla popolazione che l'ospedale di Pescara non riesce a gestire, è chiara la volontà, secondo avanti tutta, di chiudere il presidio popolese. Soprattutto poiché questo da sempre intacca i guadagni delle cliniche private, che riceverebbero un bel regalo se la popolazione del centro Abruzzo rimanesse sfornita dell'assistenza sanitaria. L'assessore Verì mi ha già risposto a un'interrogazione precisando che non solo non ci sono debiti, ma che il conto economico è in linea con il piano approvato dai due ministeri. Peraltro aggiungo che non è che non ci sono risorse in cassa, ce ne sono fin troppe. Nel silenzio del governatore Marco Marsilio, che durante la sua campagna elettorale aveva sottoscritto il documento di avanti tutta, il movimento avverte che se nulla cambierà chiamerà tutti i cittadini a tornare in piazza.